capitolo 5 nel quale un nuovo titolo appare sulla piazza di londra lasciando londra fileas fogg non sospettava indubbiamente quale grande risonanza avrebbe provocato la sua partenza la notizia della scommessa si sparse innanzitutto nel reform club e produsse una vera emozione fra i membri del prestigioso circolo poi dal club questa emozione passò ai giornali per il tramite dei reporter e dai giornali al pubblico di londra e di tutto il regno unito questo problema del giro del mondo fu commentato discusso analizzato con altrettanta passione e ardore che se si fosse trattato di un nuovo affare dell'alabama tornando al nostro giro del mondo dobbiamo dire che gli uni presero posizione a favore di fileas fogg gli altri e ben presto furono una considerevole maggioranza si pronunziarono contro di lui compiere il giro del mondo non interia e sulla carta in un tempo minimo e con mezzi di comunicazione in uso attualmente non era soltanto impossibile era insensato il times lo standard living in star il morning chronicle e una ventina di altri giornali a grande diffusione si dichiararono contro il signor fogg soltanto il daily telegraph lo sostenne in una certa misura filia sfoga fu trattato generalmente da maniaco da pazzo e i suoi colleghi del reform club furono biasimati per aver accettato questa scommessa che denotava un indebolimento delle facoltà mentali del suo autore articoli estremamente appassionati ma logici apparvero sulla vicenda si sa quanto interesse in inghilterra susciti tutto ciò che riguarda la geografia e fu così che non c'era lettore a qualsiasi classe appartenesse che non divorasse le colonne dedicate al caso di filia sfoga nei primi giorni qualche spirito audace principalmente le donne parteggiò per lui soprattutto quando illustrated london news ne ebbe pubblicato il ritratto ripreso dalla fotografia di lui depositata negli archivi del reform club e alcuni gentleman osavano dire perché no dopo tutto si sono viste cose più straordinarie erano soprattutto i lettori del daily telegraph ma si sentì presto che anche questo giornale cominciava a nutrire qualche dubbio in proposito e infatti il 7 ottobre apparve sul bollettino della società reale di geografia un lungo articolo questo trattò la questione da tutti i punti di vista e dimostrò chiaramente la follia dell'impresa secondo l'articolo tutto era contro il viaggiatore ostacoli dell'uomo ostacoli della natura per riuscire nel progetto bisognava ammettere una coincidenza miracolosa delle ore di partenza e di arrivo coincidenza che non esisteva e che non poteva esistere in europa dove i percorsi sono relativamente brevi si può contare sull'arrivo dei treni a ore fisse ma quando questi impiegano tre giorni ad attraversare l'india sette giorni ad attraversare gli stati uniti come si potevano basare le speranze di successo sulla loro puntualità e gli incidenti di macchina i deragliamenti gli scontri la cattiva stagione l'accumulo della neve tutto ciò non era forse contro file a sfog sulle navi non si sarebbe trovato d'inverno alla merce dei colpi di vento e della nebbia è dunque tanto raro che i più veloci piroscafi delle linee transoceaniche subiscano ritardi di due o tre giorni ora bastava un ritardo uno solo perché la catena delle comunicazioni fosse irreparabilmente spezzata se file a sfog avesse mancato anche solo di poche ore la partenza di una nave sarebbe stato costretto ad attendere la nave successiva e per questo solo fatto il suo viaggio sarebbe stato irreparabilmente compromesso e l'articolo fece un gran rumore quasi tutti i giornali lo riportarono e le quotazioni di file a sfog arrivassarono molto nei primi giorni che avevano seguito la partenza del gentleman importanti somme di denaro erano state impegnate sulla possibilità di successo della sua impresa e si sa che cos'è il mondo degli scommettitori in inghilterra un mondo più intelligente più elevato di quello dei giocatori lo scommettere fa parte del carattere inglese e perciò non solamente i vari membri del reform club stabilirono scommesse considerevoli pro o contro file a sfog anche la massa del pubblico entrò nel giro file a sfog fu iscritto in una specie di stad book come se fosse un cavallo da corsa se ne fece un titolo in borsa un titolo in borsa che fu immediatamente quotato sulla piazza di londra i titoli file a sfog venivano richiesti o offerti alla pari o a premio e si fecero affari enormi ma cinque giorni dopo la sua partenza dopo l'articolo del bollettino della società reale di geografia lo si offrì a pacchetti preso da prima a cinque poi a dieci in seguito lo si prese solo a venti a cinquanta addirittura a cento un solo sostenitore gli restò fedele e fu il vecchio paralittico lord albermail questo onorevole gentiluomo inchiodato la sua poltrona avrebbe dato il suo patrimonio per poter fare il giro del mondo anche in dieci anni e scommise la notevole cifra di quattromila sterline a favore di file a sfog e quando insieme con la sciocchezza del progetto gliene si dimostrava l'inutilità si contentava di rispondere beh se la cosa è fattibile è bene che sia un inglese a farla per primo eh sì si era a questo punto al dunque i sostenitori di file a sfog si rarefacevano sempre più e tutti quanti e non senza una ragione si mettevano contro di lui le scommesse erano salite a centocinquanta duecento a uno e quando sette giorni dopo la sua partenza un incidente completamente inatteso fecesi che le quote a suo favore si riducessero a zero da suez a londra a rowan commissario di polizia amministrazione centrale di scotland yard pedino ladro di banca file a sfog inviate subito mandato di cattura a bombay india inglese firmato la gente fix l'effetto di questo telegramma fu immediato il rispettabile gentleman sparì per dar luogo al ladro di biglietti di banca la sua fotografia depositata al reform club con quella di tutti i suoi colleghi venne esaminata essa riproduceva tratto per tratto l'uomo i cui connotati erano risultati dall'inchiesta si ricordò ciò che l'esistenza di filia sfoga aveva di misterioso il suo isolamento la sua partenza improvvisa ed apparve evidente che questo personaggio col pretesto di un viaggio intorno al mondo basato su una scommessa insensata non aveva avuto altro scopo che quello di mettere fuori strada gli agenti della polizia inglese